Buonasera a tutti, benvenuti alla novantasettesima puntata di Start, partiamo in ritardo, la colpa è tutta mia perché io non riuscivo a collegarmi con Hangouts, è un sano miracolo quello che io non ho ancora capito cosa succede, ma comunque la tecnologia mi sopravancia, va bene, però va bene perché di tecnologia parliamo stasera, non so se avete letto il pezzo di presentazione della puntata di Start stasera, parliamo un pochino di futuro, di tecnologia, di innovazione, di percezione dell'innovazione, con me stasera naturalmente e come sempre, Salvo Sardina, ciao Salvo. Ciao direttore, buonasera a tutti. E ciao Alberto, naturalmente Saiu. Buonasera direttore, ciao Salvo e un saluto a tutti i nostri ascoltatori, spero che qualcuno sia rimasto nonostante i problemi tecnici io mi rendo conto che come al solito siamo in, cioè sono fondamentalmente perché loro due sono nativi digitali, io invece sono una specie di cadavere digitale per cui è inevitabile che riusciamo a parlarci male, va bene, andiamo. Però direttore, esatto, parliamo di questa Formula 1 che è sempre troppo prevedibile, che le macchine non rompono mai, invece noi con i nostri problemi proponiamo un'idea totalmente diversa, ecco. Ammetto, ammetto, ammetto che i problemi sono essenzialmente miei, io sono praticamente l'alonso di Hangout, quindi voglio dire, no. Cioè che anche se cambiassimo piattaforma, direttore, quindi se da Hangout andassimo su un'altra piattaforma. Eh ma potrebbe andare anche peggio, può succedere, voglio dire, almeno in Formula 1 succede. Esatto. No, io ho fatto quelle dieci righe lì di entrata perché io sono stato a Imola per il festival, il Legend Festival, molto interessante, tante belle macchine, forse più belle macchine che spettatori, devo dire purtroppo, ma devo dire che le riflessioni sono molte a vedere questo tipo di tecnologia e a parlare come abbiamo fatto in un incontro quello sì veramente affollato, super affollato, direi quasi incontrollabile da un certo punto di vista che abbiamo fatto con Jackie X e Mauro Forgheri, parlavamo della 312B, della Ferrari 312B ma fondamentalmente poi ci siamo allargati un po' al concetto stesso di Formula 1 e veniva un pochino fuori questo tema, cioè era una, quando io dico nostalgia per un futuro, non dico un'assurdità, è vero che oggi noi nel futuro in realtà ci siamo, ma nostalgia di un futuro non prevedibile, Alberto lo ha già detto anticipandomi, il concetto di prevedibilità, oggi tutto viene prima sperimentato in laboratorio e al 99% si sanno già i risultati, una volta si andava in pista e si provava, gli scienziati non erano ancora scienziati, erano fondamentalmente inventori e l'inventore si provava e questo dava evidentemente una incredibile mano allo spettacolo in pista perché come diciamo da un lato l'innovazione, la prestazione, dall'altro l'affidabilità si invertivano di gara in gara. Ditemi voi cosa ne pensate? Allora parto io direttore secondo me, sì sì sì, però mi possiate sentire bene, direttore sfondi una porta, stappamente d'accordo con te, però cosa dobbiamo farci? Fa parte del gioco, no? È vero, però Alberto hai perfettamente ragione, non si può rifiutare la tecnologia, ci mancherebbe, ma quello che mi sembra curioso è che buttata dalla finestra l'imprevedibilità viene recuperata dalla porta o viceversa attraverso un regolamento tecnico che tende a inserire degli elementi di imprevedibilità posteriori, questo Alberto mi sembra un po' folle voglio dire, no? Ma certo, ma è evidente che il discorso dei tre motori, secondo me non è tanto un'idea di ottica ecologica, di ottica di risparmio economico e di materiali, evidentemente è stata una scelta fatta per creare del disagio, per creare delle problematiche, per creare dello spettacolo, inserendo da un lato la possibilità che queste power unit si rompano e anche di contare delle penalità e quindi faccio uno spettacolo. Cioè, Alberto, l'imprevedibilità che prima era connessa con la Formula 1 stessa perché l'innovazione era imprevedibile, nel momento in cui tutto diventa prevedibile inseriamo un elemento di imprevedibilità, artificioso però, come le gomme ad esempio, no? Voglio dire, i pneumatici sono un elemento fatto apposta. Voglio dire, che senso ha in un momento in cui i pneumatici fanno migliaia, migliaia, migliaia di chilometri, prevedere per la Formula 1 sei, sette tipi di mescole che poi fra l'altro si ricoprono l'una con l'altra, voglio dire, no? È quel tentativo di rendere imprevedibile, ma l'imprevedibilità a posteriore sa di falso, sa di finto. Ah beh, certo, diciamo che non è più imprevedibilità, ma viene creata in laboratorio l'idea di un'imprevedibilità, che non è l'imprevedibilità, perché questa è una cosa da prevista, cioè si prevede l'imprevisto. È quello mertificioso, ecco. Salvo, volevo dirti, adesso siamo a due anni dal nuovo regolamento, no? E vivremo, credo, due anni molto interessanti, almeno a giudicare dalle dichiarazioni ad esempio di Ross Brown, di oggi, no? Dove comincia a dire, beh, la Ferrari tira l'acqua al suo molino, il regolamento dovrebbe essere quello a suo favore, invece deve essere a favore della Formula 1. Secondo te cosa ci aspetta in questi mesi e in questi due anni? Ma ci aspetta probabilmente un continuo tira e molla, è ovvio che non si avranno delle decisioni per quanto riguarda il 2021, perché poi è questa qui la partita che si sta giocando, quella per il 2019 è già stata stabilita, ci sono delle regole, dei piccoli cambiamenti che sono già stati decisi. Chiaramente si sta adesso lavorando in ottica 2021 e quello che ci aspetta è un continuo tira e molla tra Liberty Media e i grandi costruttori. Per grandi costruttori dobbiamo intendere la Ferrari, ma anche la Mercedes che sostanzialmente è schierata al fianco del cavallino in questa... Ma direi che ormai tutte le dichiarazioni ci fanno vedere che noi siamo di fronte a un'unica squadra, ha una Mer Ferrari praticamente, non dico una Ferrari Mer perché qualcuno potrebbe equivocare, ma una Mercedes Ferrari certamente voglio dire. Sì, però al di là della semantica il fatto è che la Formula 1 in questo momento è nelle mani di Ferrari e Mercedes, la federazione se ne... dimmi. Assolutamente sì, però dall'altro lato è chiaro che sappiamo tutti quanti che tipo di importanza riveste la Ferrari per la Formula 1, però è anche vero che quello che si è lasciato trapelare per quanto riguarda i nuovi motori 2021, se da un lato fa storcere il naso a Mercedes Ferrari dall'altro lato sembra invogliare altri costruttori, perché l'Aston Martin per esempio si è detto entusiasta di queste regole che potrebbero appunto invogliarli ad entrare come motoristi nel 2021, è lo stesso per bocca di Gerhard Berger, non so in qualità di cosa Gerhard Berger, adesso è una cosa... In qualità di uccio, non lo so... In qualità di uccio... Sì, ognuno ha l'utto che si merita, certo, certo, giusto, bello... Potrebbe entrare in Formula 1 dal 2020... Sì, però, 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 scusami, ma questi costruttori, questi costruttori che rifiutano quello che loro ritengono anche giusto, ammirimento della Formula 1 in funzione del nuovo regolamento e quindi l'eliminazione dell'MGH, delle semplificazioni, delle normalizzazioni di alcuni componenti, come la batteria, il motore elettrico, eccetera, vorrei sapere come si consigliano col fatto che questi fanno le altissime tecnologie, ma poi si lasciano castrare dal regolamento. Non mi torna, ecco, non riesco a capire qual è la logica. Ebbè, direttore, secondo me la logica fondamentalmente è quella di trovare un compromesso, perché ce lo siamo detti mille volte che da un lato c'è l'aspetto tecnologico, dall'altro però bisogna pensare anche allo spettacolo e bisogna pensare anche a... Ma scusami, ma perché devo spendere 400 milioni di dollari all'anno per ottenere un risultato che poi lo appendo alla cabala delle gomme, alla cabala del regolamento tecnico, alla cabala del regolamento sportivo? Non ho capito questo. È perché, direttore, è lo stesso motivo per cui Gucci e Louis Vuitton hanno un negozio sui Champs-Élysées, sicuramente quel negozio lì non porterà delle revenues, però bisogna esserci. Quindi per Ferrari, per Mercedes, bisogna essere in Formula 1, perché è la vetrina. Ma il problema è la contraddizione. Perché io devo andare in vetrina con un motore che consuma 0,6 kg d'olio ogni 100 km, con delle macchine che se le mettono in moto nei box e sono il massimo delibrido che succede e la gente viene soffocata dai fumi d'olio. Ma è questa la vetrina degli Champs-Élysées? Cioè, abbiamo gli Vuitton negli Champs-Élysées con le borse tagliate con il coltello e sguarate in qualche modo e con le cerniere che pensano? No! La Formula 1 attuale è una Formula 1 che dice che sono il massimo dell'ibrido, il massimo dell'efficienza, il minimo dell'inquinamento, poi accende un motore, non solo, ma anche quelli che non sputano olio come alcuni e comunque hanno un tubo, io l'ho scritto, io ce l'avevo sulla 600, la 600 me la davano con il riciclo d'olio, ma noi immediatamente mettevamo un tubo a perdere. Bene, oggi le Formula 1 hanno il tubo a perdere. Parliamo di sicurezza, ma quell'olio dove va secondo voi? Ma a me sembra una follia, una contraddizione spaventosa, ma i costruttori dove sono? Che cosa fanno? Che testa hanno? Beh, direttore, però è la contraddizione che magari possiamo cogliere io e te, lettori di Formula Fashion, ma il pubblico generalista, quello che guarda la TV su Sky e la Formula 1 è solamente vedere cosa fanno e la Formula 1 parla con queste persone attraverso delle immagini, attraverso degli sponsor. Queste persone non gliene frega niente di andare a capire quanto olio brucia una Formula 1, loro vogliono vedere due ruotate, vogliono vedere la Ferrari che vince. Ma allora che senso ha complicarla fino a questo punto, voglio dire, perché è una contraddizione in termini, è una follia. Direttore, è una follia a cui però siamo abituati, funziona così perché gli interessi in gioco sono molteplici, televisioni, sponsor, case, pubblico, ognuno deve dire un po' la sua e poi vengono fuori questi pastrocchi, qualche volta bene, qualche volta male, ecco. Ma non lo so, non mi convince e penso oltretutto che la strada verso il nuovo regolamento comporterà anche in pista delle situazioni non buone. Io credo, c'è già un cartello, che è il cartello Mercedes-Ferrari, quello non c'è il minimo dubbio. Poi ci sarà un cartello capitanato da Red Bull verso quelli che una volta si sarebbero chiamati assemblatori. Tutto questo secondo me comporterà, non voglio parlare di un compromesso storico, visto che siamo a 40 anni dalla tragedia di Moro, ma qualcosa del genere probabilmente sì. Mi chiedo se d'ora in poi noi vedremo l'altalena dei risultati, una funzione delle trattative che ci porteranno a un nuovo regolamento. Ecco, prima di cambiare l'argomento però volevo solo dirti, ma non è sempre stato così forse? Sì, forse, ma non c'era un cartello dei costruttori così forte, non c'era, soprattutto di costruttori così confusi vorrei dire, anche perché in questo momento la posta in gioco non so quanto sia delle marche in se stesso o di chi gestisce quelle marche, sono due fatti diversi anche da un punto di vista della resa economica del gioco. Quindi secondo me ci aspettano degli anni complicati, molto molto complicati dove i risultati andranno letti non solo in funzione di quello che succede in pista, ma di quello che succede prima. E vabbè, qualcosa l'abbiamo detta. Esatto, salvo. Ci sarà qualcuno che dice qualcosa su questo? Sì, beh, ci sono tanti nostri ascoltatori che si sono espressi sul tema, per esempio Zallon 15, ma più o meno sono parole che hai scritto anche tu Mauro nel pezzo di presentazione, dice bel tema, anche secondo me ciò che manca maggiormente alle gare di Formula 1 dell'imprevedibilità che nasce dal fatto che non tutte le variabili si potevano controllare, pertanto la bravura umana e l'intuito potevano avere la meglio sulla buona o la cattiva prestazione. E quello purtroppo però come avete detto anche voi, indietro non si torna, però voglio dire ci sono tutta una serie di regole che viaggiano verso l'affidabilità contraddette poi a posteriori, è questo che non capisco, non capisco come lo possano digerire i costruttori, quando Mercedes negli anni 50, 54, 55 vinceva i mondiali, non era il regolamento, è un regolamento molto semplice, fondamentalmente dava delle indicazioni di scilindrata ma non andava oltre, c'era chi aveva il carburatore, chi aveva l'iniezione diretta del carburante, voglio dire ecco qui ormai non abbiamo più la diversità del genere, c'è un'assoluta sovrapposizione tecnologica la cui differenza deriva solo dalla quantità di soldi che si possono mettere, in passato non era esattamente così, io capisco che quando, lo dico mille volte, quando ad ogni domanda c'è una risposta il problema è sapere le domande da fare, ma oggi la domanda è fatta dal regolamento della federazione, per cui la domanda è unica sola, le modifiche successive sono modifiche che hanno la dimensione del capello di un angelo, per cui diventa solo un problema di soldi e allora abbiamo una Formula 1 bella, divertente, con due marche e mezzo che stanno davanti e gli altri che stanno dietro, non c'è mai nessuna possibilità di un risultato, anche una volta all'anno di un risultato, abbiamo visto la Red Bull, quello è vero, ma la Red Bull è purtroppo una certa forza, non so e non so soprattutto dove Ross Brown voglia portare questo regolamento. Mauro, prima di andare avanti con questo tema, che poi ti vorrei fare proprio una domanda sul Budget Cup, perché potrebbe effettivamente essere una delle possibili soluzioni a questo problema di carattere economico. La soluzione ai problemi della Williams, della Assi, quelli lì. Prima di andare su questo tema, siccome sappiamo che il nostro caro amico e collega Alberto Sayu ci deve lasciare, è un po' in anticipo. Sì, no, vi devo lasciare, ma dove vai? Scusate, non vuoi. Sì, detto così, detto così, è meglio un attimino. Ma dove va Sayu stasera? Eh, Sayu, dove vai? Dove va, direttore? Ogni tanto, non di solo a Formula 1 vive l'uomo, cosa le devo dire? Eh, ma di martedì? Ma di martedì che c'è start? Eh, domani è festa. Eh, ma come... Passi che io salto qualche volta perché vado da dentista, ma a te, voglio dire, non so. È vergognoso, guarda, direttore. No, è vergognoso, veramente. A salvo va bene perché fa queste cose quando lei non c'è. Doveva vedere martedì scorso com'era la questione qua, eh. Cioè, ragazzi facciamo presto che poi io devo uscire, devo fare. Cioè, proprio la professionalità io almeno l'ho dichiarato. Ma sei a Genova? Sei a Genova, Alberto? Sono a Genova. Non ho capito, sei a Genova? Sì, sì, è a Genova. Cioè, il nostro Vattino Dain che dice che vai all'arrivo del PD. Sei a Genova, direttore. E dove vai? Ti si sente un po' male adesso, eh. Non so se ti sei spostato. Ma sei già in assessore? Stai già correndo? Stai già correndo in assessore? È in galleria, probabilmente. È in galleria, dove diavolo è, mamma mia. Andrà a Riviera, andrà a Riviera. Come l'ultimo dei turisti. Vabbè, pazienza. Ci senti Alberto? No, no. No. Lascialo perdere, guarda. Ci avrà dell'altro, ci avrà dell'altro. Niente, Mauro, noi... Io volevo anticipare il tema... Sì, per conto nostro, non ci merita, guarda. Volevo anticipare il tema del Totocoppini, però senza il nostro caro Alberto... Senza Alberto non si può fare, purtroppo. Non si può fare, purtroppo è... Eh, ok. Senti, senti l'anima di Alberto che si fa viva. Un rigurgito, Alberto. Non sono ancora andato via. Ecco. Se Salvo l'avesse previsto. Totocoppini, forza. Totocoppini, ma allora ve lo dico subito. Anzi, come la gioco, a Baku vedremo l'ultima vittoria in carriera di Kimi Raikkonen. Addirittura. Ultima in carriera, sì, sì. Allora, forza, conduci i giochi così il nostro direttore può esprimere il tuo... Raikkonen, Hamilton, Verstappen. Alonso dodicesimo. Ma stai prendendo appunti pure, va bene che tu te lo sei già scritto, però... E prendi di te, non lo so. Tanto io poi la trasmissione me la riascolto due o tre volte da qua al Gran Premio. Ah, beh, se fai così... Anche stasera magari te la puoi riascoltare in compagnia, voglio dire, no? Esatto, ce la riascoltiamo in compagnia stasera. Tanto penso che quella povera donna sarà talmente annoiata che se ti fai vedere start... Ora mi sta guardando ed è disperata... Saluta, ce la volto, come si chiama? Paola, Paola, sì, sì. Ciao Paola! Ti saluta Coppini. E lei ritaglia. Ciao Paola! Ma anche io, anche io saluto Paola, ovviamente. Ci mancherebbe... Facciamo partecipare anche Paola al Totto Coppini. La facciamo partecipare, ora chiediamo un pronostico. Chiedi il pronostico a Paola. Pronostico, chi vince? Ricciardo. Falla parlare però! Allora lo sta dicendo, è qua direttore. Dice Ricciardo ma è influenzata dalle mie simpatie, secondo me. Vabbè, le tue simpatie ti è per te, lei avrà simpatie per Ricciardo. De cosa c'entri? È vero, è vero, può essere che anche lei abbia simpatie per Ricciardo, di cui io non era conoscenza. Va bene, direttore. Ma Paola, scusami Alberto, scusa, 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 un momento, un momento. A Paola gli piace la Formula 1? Sì, sì, la guarda, la guarda. Ma non si può parlare con Paola invece che con te, scusa, eh? Eh sì, si può. Fammi parlare con Paola? Eh vabbè, ho capito, non si riesce a parlare con Paola, vabbè. Ma dove siete? No, purtroppo si sente malissimo. No, niente, lasciamo perdere, non parlerò con Paola, vabbè, ame. Comunque Mauro, io penso che questo qui è ormai un anno e mezzo, che facciamo start, ma è il momento più alto della nostra carriera, eh. Eh vabbè, ma devo dire, c'era l'occasione per sentire una persona normale parlare di Formula 1, vabbè. Eh, vabbè, comunque dai il tuo pronostico Mauro, per favore. Allora, io sarei d'accordo con Paola, Ricciardo, Hamilton e Vettel. Ok. E Alonso, ottavo. Ok, io dico Hamilton, Verstappen, Vettel. E Alonso, nono. Facciamo così. L'abbiamo messo quasi dappertutto, Alonso. Eh, esatto. Vabbè, ok, esaurito l'argomento Toto Coppini. Alberto, ti possiamo salutare? Ti auguriamo una buona serata. È un paura che sia già cominciata la sua serata. È già cominciata, peraltro. Vabbè. Lascialo perdere, va, lascialo perdere. Mi dispiace per Paola, guarda. Ti sentiamo malissimo. Paola, guarda, veramente. Ci sentiamo martedì, dai, forza. Salutaci Paolo. Tanti saluti a Paolo. Chiamami Paola, chiamami, che ne parliamo. Ciao Paolo. Vabbè, è andato, dai. È andato in tutti i sensi, io credo. Ma comunque, va bene. Va bene, ok. Va bene. Andiamo avanti, dai. È caduta, non c'è più, se n'è andato e basta. Va bene. Va bene. Il dopo Paola cosa ci riserva? Intanto, per esempio, Richard, 552, dice, ecco, questo è il motivo per cui seguo sempre questa rubrica. Cioè, questo, queste scenette qua. Ma c'è da dire, ma Mauro, che settimana scorsa siamo stati un po' bacchettati, qualcuno ci ha detto che siamo dei buffoni. Ho sentito, ho sentito. Non è una cosa univoca, però c'è a chi piace. Eh, vabbè, a qualcuno piace, a qualcuno giustamente può non piacere. Ma se Paola fosse rimasta con noi, avremmo avuto una bellissima seconda parte della trasmissione. Invece di andare ad annoiare con Sayu, stava con noi, ma secondo me è lui che l'ha censurata, capisci? Eh, probabilmente sì. Ha simulato dei problemi. Ma è chiaro, perché lui sente che il suo ruolo è in bilico, voglio dire, no? Per cui è chiaro che da un momento all'altro, vabbè. Ma è meglio di me, da navigato giornalista e uomo di spettacolo anche. Anche, sì. Perché, voglio dire, ogni trasmissione ha bisogno di una donna, per cui a un certo punto... Ma infatti io vorrei che Paola partecipasse in futuro. Esatto. Io capisco che dopo una serata con Alberto sia difficile convincerla, però comunque, insomma, si può provare, ecco. Ma poi al dia di tutto, immagina una serata, tutta a fazzoletti nel taschino e a menità... Eh, vabbè, e a meni con i vari, vabbè, comunque, insomma, sono contento per Alberto. Comunque, torniamo alla formula 1, Mauro, e torniamo alla questione Budget Cup, perché effettivamente, ce lo chiedevano alcuni nostri ascoltatori sulla chat di YouTube, quella che viene proposta come... quello che viene proposta come tetto di spesa è un tetto di 150 milioni di dollari. È un tetto che però, praticamente, equivale più o meno alle spese della Sauber. Tutti gli altri team dovrebbero mandare a casa tanta gente. Pensiamo a Ferrari, pensiamo a Mercedes, soprattutto. Come se ne esce fuori? Come se ne viene fuori? Ma allora, guarda, io ho cominciato a sentire parlare di Budget Cup ai tempi di Mosley. E ne abbiamo parlato anche con lui, in Inghilterra, mi ricordo, quando Longanesi era il responsabile dell'ufficio stampa della FIA. Il Budget Cup non è possibile controllarlo, nel senso che siamo di nuovo lì. Quindi, i grandi costruttori sono in grado, attraverso meccanismi finanziari diversi, di avere il Budget Cup esattamente come vogliono loro, nella dimensione che vogliono loro, attraverso tutta una serie di derive sulla componentistica esterna, sulla fatturazione della componentistica. Guarda, io faccio un esempio. Nella formula student, o formula SAE, che dir si voglia, che è quella formula che produce monoposto, costruite, progettate e costruite dagli studenti delle università, naturalmente questi costruttori, queste università, non possono avere aiuti esterni che non sia semplice componentistica. Bene, c'è una squadra che è svizzera, che vince continuamente, e tutti sanno che è finanziata direttamente dalla Porsche. Quindi, evidentemente, esistono sistemi, soprattutto quando saliamo di livello, che sono in grado di aggirare qualunque Budget Cup. Per cui, il Budget Cup non cambierebbe assolutamente niente. I grandi costruttori continuerebbero a spendere quello che spendono oggi, e gli altri otterremo l'effetto esattamente opposto, casomai. Posto che il Budget Cup che oggi viene proposto, non è che sia raggiunto da tutti quelli che stanno dietro in griglia, forse è anche un obiettivo utopistico. Comunque, non è, secondo me, gestibile, e devo dire che Mosley, di cui io comunque ho un grande rispetto, è una persona di grande intelligenza, si rendeva conto di questo. Il Budget Cup voleva dire lasciare liberi i grandi costruttori e imbrigliare i piccoli. Ecco, no, ma infatti allora per quale motivo c'è così tanta polemica da parte dei grandi? Cioè, sapendo che effettivamente aggirarlo dovrebbe essere un gioco da ragazzi, come mai secondo te c'è così tanto? Diciamo che la polemica, intanto salvo la grossa polemica, è quella di Ferrari, perché per il bonus che la Ferrari ritiene di dover avere, e forse anche ha ragione, perché parte della storia stessa della Formula 1, e quello è in discussione. Sul Budget Cup non credo che si agita più di tanto, è chiaro che proprio perché sanno benissimo che loro lo possono aggirare, non possono far vedere che loro non gliene frega niente, quindi di facciata è giusto che dicano no, non vogliamo il Budget Cup, ma loro sanno benissimo che lo possono aggirare come vogliono. Ok, chiarissimo. Mauro, torniamo su un altro tema, che è un tema a te molto caro, tant'è vero che il nostro amico F1 Danny l'ha fatto la domanda, io l'ho subito ribattezzato Birbantello, perché ti va a inserire il coltello nella piaga, e la piaga è quella delle gomme, sappiamo che è un tema a te molto caro, però è giusto che io ti legga la domanda. Allora, più che lamentarsi del motore, bisognerebbe puntare più il dito verso le gomme, che mai come oggi rendono vano tutto il lavoro svolto durante l'anno. Si guardi Shanghai, tra ultra soft e soft c'era lo stesso ritmo e quasi la stessa usura, poi però le Red Bull con le soft parevano, rispetto agli altri con le medie, di un altro pianeta. Salvo, noi lo diciamo tutte le settimane e si riallaccia al discorso. Come fa un costruttore ad accettare? Scusami se ti interrompo, però secondo me è anche una questione di cercare di capire che cosa si vuole dalla Formula 1, perché è vero, quello che dice Daniel è sotto gli occhi di tutti, mi pare abbastanza evidente. Tuttavia, il problema è che, no il problema, il punto è che questa situazione delle gomme a Shanghai ci ha regalato un finale estremamente entusiasmante. Hai perfettamente ragione, ma allora basterebbe trasformare la Formula 1 in una partita a dadi, dove si gettano dei dadi e in funzione del risultato dei dadi si penalizzano le automobili. Il rischio pare tutto. È bellissimo. E se il 9, è bene, il 9 va avanti, e se il 7, il 7 va indietro. Cioè, possiamo trovare mille modi per ottenere lo stesso effetto che hanno le gomme. Ora, e torno al discorso dell'immagine dei costruttori, come un produttore di pneumatici ritenga che sia una bella operazione di marketing fare gomme che si identificano solo per i limiti e non per i benefici. Questa è una cosa che io non riesco a capire, ma d'altra parte la capirà sicuramente la Pirelli, voglio dire. E poi è bello tutte le polemiche che nascono ogni volta che si interviene sul pneumatico. Adesso c'è il problema dell'altezza del battistrada, ritoccare l'altezza del battistrada, aumentarla. Allora, c'è tutta la manfrina, la Ferrari, arriva bene, dice in un orecchio a uno, ecco l'hanno fatto per la Mercedes, quelli della Mercedes, no, non è vero. Tenendo conto che perché Pirelli possa fare un'operazione del genere, deve avere il consenso di tutti. Ora, è una pagliacciata, è tutto lì, le gomme, sono una grande pagliacciata. Poi ci regalano anche un Gran Premio molto divertente, ma allora vi dico, ci sono altri sistemi, c'è il Baccarat, c'è la roulette russa, c'è un sacco di sistemi che ci consentono di tenere in ansia lo spettatore attaccato alla televisione. Ma non per questo, questa deve essere la Formula 1, la Formula 1 comunque, visto che questa dovrebbe essere la Formula 1 dei costruttori, dovrebbe essere la Formula 1 tecnologica, la Formula 1 della grande difficoltà di guida, la Formula 1 dei duelli in pista e non attraverso duelli in pista mediati dalle gomme, mediati dal flussometro, mediati dal regolamento sportivo, mediati dal regolamento tecnico. Questo mi pare eccessivo, poi mi sbaglierò. Chiarissimo il tuo punto di vista, direttore. Ti leggo una domanda di Roby27, visto che comunque tutta la puntata la dedichiamo un po' a questa nostalgia, appunto, cioè, l'abbiamo... Nostalgia di futuro, però, nostalgia di futuro. Esatto. Allora, Roby dice, direttore, Roby27, direttore al Legend, al Motor Legend Festival di Imola, dopo averle raccontato della mia felicità, mista a stupore, nel vedere che con i bimbi potevo girare box e paddock, lei mi disse, ci mancherebbe altro, sono qui per voi. Le chiedo, cosa sbagliano quelli veri, cioè, parliamo chiaramente del paddock della Formula 1 attuale, che si chiudono emarginando il tifoso manco fosse un lebroso? Allora, Salvo, intanto ti dico, non occorre parlare della Formula 1 attuale, parlare proprio della Formula 1 Legend, perché in mezzo a quel paddock di cui Roby dice era trasparente per la gente, cioè si poteva entrare, si poteva girare, una specie di Goodwood italiana, molto bello, con tutti molto disponibili, con tutti pronti a alzare il cofano, una cosa bellissima, c'era però un'isola che combinazione era identificata dal colore rosso. Bene, in tutta questa democratizzazione dello sport, la Ferrari si identificava per un muro intorno a lei, tanto è vero che c'era, ci voleva oltre al pass per poter entrare, parlo della stampa, ci voleva un super pass per entrare all'interno della Ferrari. Ora, scusami la domanda, tu ce l'avevi il super pass? Oppure... non l'ho minimamente chiesto e non ci sono andato e così non ho potuto vedere segreti di Formula 1 del 1980, 82, 90 che potrebbero essere essenziali per la vincita del campionato quest'anno evidentemente, perché se nessuno poteva entrare è chiaro, quindi voglio dire è veramente una grande operazione simpatia che la Ferrari riesce a fare in queste occasioni, cioè in un momento in cui c'è uno stato di assoluta condivisione in cui le automobili sono automobili comunque che non devono nascondere nulla e dove c'è l'emotività, la passione, la Ferrari mette un muro perché i suoi clienti, io non voglio essere demagogo, ma i suoi clienti miliardari che magari invece avrebbero anche voglia di vedere come è fatta una persona normale, devono essere assolutamente isolati e la Ferrari con lei, quindi i grandi van come quelli della Formula 1, qualcuno arriva in elicottero e fa bene visto che c'è là ed è giusto che lo faccia, ma poi il ponte elevatoio sale, chi è fuori e fuori, insomma siamo al Marchese del Grillo fondamentalmente, no? La Ferrari dovrebbe averlo come simbolo, io sono io e voi non siete un cazzo, io da un punto di vista di marketing anche perché la Ferrari corre per vendere le automobili ma anche per creare quell'immagine che fa sì che uno trovi un controvalore in una macchina che tanto non potrà mai usare che verrà additato come un povero scemo che va a giro per strada con la macchina rossa che fa un sacco di rumore dovrebbe avere invece un'impostazione di questo genere, no! Al Legend alla Ferrari non si poteva entrare, la Ferrari non si mischia con nessuno, bene, non occorre arrivare alla Formula 1 reale dove posso immaginare che siano degli elementi, la Ferrari ce l'ha, la Ferrari soprattutto di oggi e diciamo degli ultimi 20 anni ce l'ha nel DNA, noi siamo noi, voi vedete di passare alla larga perché non vogliamo contaminazioni, io faccio veramente i miei complimenti per un'operazione simpatia che viene sempre utile ma a parte della stagione rimarranno per strada. Mauro ma tu eri lì e chiaramente avevi il polso della situazione, la gente ha avvertito questa... Guarda, alla porta c'era un signore molto grosso che faceva la selezione e li mandava via con aria molto minacciosa ma lui poverino faceva il suo vestire e gli hanno detto di fare così quindi gente con i bambini che si avvicinava c'erano 7-8 bellissime Ferrari rosse meravigliose di Formula 1 c'era la 312 B restaurata da Barilla c'era di tutto c'era di tutto ma non si poteva entrare assolutamente era vietato a tutti quindi io mi chiedo veramente qual è la logica tieni conto che tra l'altro non c'era una folla da gran premio c'era tutti i padri con tanti bambini quindi veramente io sono stupito mi dispiace non voglio essere violento ma non riesco a capire qual è la logica di un'operazione del genere allora meglio che stiano a casa i clienti possono andare a girare al castellè voglio dire chiarissimo Mauro sei stato molto molto chiaro non penso ci sia nulla da aggiungere a questo visto che abbiamo dieci minuti ancora di trasmissione intanto volevo fare mi è stato chiesto di farlo dal nostro Luca Manacorda lo faccio con grande piacere perché oggi ho fatto di nuovo un salto lì dentro il gruppo Telegram di Formula Passion Mauro ha raggiunto e superato quota 400 iscritti magnifico magnifico ma in talcena andavo anch'io esatto ci sei anche tu ci sono anche io è una roba mastodontica ma lì c'è chi c'è dentro non c'è Ugo Gamba c'è Ugo Gamba che praticamente è il non so se a livello di gestione sia il presidente di questo fan club però possiamo dire che è uno dei più attivi sicuramente il nostro caro amico Ugo che ci sta ascoltando perché ha anche scritto alcune considerazioni ciao Ugo esatto tra l'altro Daniel scrive ma come mai nessuno di quel gruppo viene a sentire Start no ma ci sono tantissimi del gruppo di Telegram che invece ci ascoltano va bene Mauro ti leggo un'altra considerazione anzi sì una considerazione di Bubusette un altro nostro carissimo ascoltatore apprezzionato dice ma che ci frega andando poi sulla questione sportiva vera e propria visto che oggi l'abbiamo toccata soltanto di striscio che ci frega questa no Kimi Raikkonen ci piazza zitto zitto cacchio cacchio un anno degno del 2007 vedi un un Kimi Raikkonen dopo queste prime tre gare a quei livelli pensi che Kimi possa addirittura battere Fettel e mettersi lì a lottare per il campionato ma è guarda ti devo ricordare che entrambi se non sbaglio sia tu che Alberto avete detto che Raikkonen vincerà a Baku guarda ehm guarda cosa sta succedendo tra Bottas e Hamilton cioè la sindrome del campione ehm il campione è molto fragile ehm mi sembra chiaro che alla Ferrari Raikkonen abbia interpretato meglio la macchina di quest'anno e che Vettel faccia più fatica poi la recupera durante la gara probabilmente e anche perché la squadra lo aiuta molto la stessa cosa sta succedendo ehm per Hamilton cioè eh il campione si alimenta di prestazione di vittoria di confronti con il suo compagno quest'anno c'è qualche cosa nelle due squadre che non funziona può essere legata alla macchina all'evoluzione della macchina si dice c'è sempre io credo che sia abbastanza amicizzato ma il concetto della precisione all'avantreno che piace molto a Raikkonen e piace meno a Vettel c'è qualcosa che però non funziona e eh se questo è solo un episodio si può saltare ma se comincia a diventare una costante può diventare un grosso grosso problema Raikkonen il problema per Vettel e Bottas il problema per Hamilton quando oggi Hamilton comincia a dire eh a giocare di rimessa dicendo noi siamo a questo punto siamo la seconda terza squadra del mondiale questa in effetti è una dichiarazione che fa un po' un po' è veramente preoccupante è estremamente preoccupante la dice molto sulla motivazione non voglio dire che siamo all'effetto Lorenzo per la Ducati ma qualcosa del genere eh ma io però ti dico la verità l'ho un po' letta come un po' di pretattica cioè non ho ancora vinto non abbiamo ancora vinto non è una gran pretattica però eh annunciare la propria fragilità prestazionale eh direi casomai è il contrario vedi veramente una Mercedes così indietro a livello di prestazione perché non lo so non lo so sicuramente la terza no le gare però li abbiamo viste eh voglio dire abbiamo visto Bottas davanti a Hamilton c'è qualcosa che non va qualcosa che non quadra non so che cosa sia ma qualcosa c'è e lo stesso in misura minore c'è anche alla Ferrari Raikkonen che fa dei tempi buoni cioè Raikkonen di quest'anno non è Raikkonen dell'anno scorso eh voglio dire quindi cos'è successo eh il campione comincia a preoccuparsi quando vede queste cose eh il campione si preoccupa magari del ragazzino del Verstappen eccetera però in questo momento avere il compagno di squadra che nei due casi fra l'altro Mercedes e Ferrari è chiaramente un secondo pilota o almeno lo era all'inizio della squadra lo è certamente per la Ferrari tra un po' lo sarà stato per la Mercedes perché c'è anche tutto un problema di rinnovi di contratto alla Mercedes e quindi su Hamilton c'è grava grava un peso notevole e quindi staremo a vedere ma a proposito di rinnovi di contratto perché quello di Hamilton sembra eh essenzialmente una questione eh soltanto formale Hamilton rinnoverà sì ma intanto ma sai intanto però voglio dire quando i contratti però rimangono lì e non si rinnovano qualcosa c'è sempre anche perché eh Hamilton tra l'altro col tipo di stagione che sta facendo non è che ci può guadagnare molto da mandarlo avanti il contratto eh è di nuovo il discorso di Lorenzo il discorso di Ducati ci sono tanti elementi esterni eh come mai eh a Dovizioso non si rinnova il contratto eh teniamo conto che il nuovo presidente della Volkswagen è uno che accetta l'idea di una vendita della Ducati e quindi vuol dire ci sono sempre delle condizioni al contorno che condizionano queste cose e quindi queste condizionano poi anche il pilota condizionano la sua capacità la sua forza la sua la sua determinazione quindi anche questo conta ok ehm comunque dicevamo eh probabilmente Hamilton rinnoverà anche perché è difficile immaginarlo in un posto diverso la Mercedes per le 2.000 no rinnoverà rinnoverà senz'altro ma anche anche quello comunque non è un asseggiamento abituale voglio dire lo ha fatto Senna ai tempi della McLaren quando correva a gettone ma erano altri esempi ok eh invece quello che volevo chiederti è cosa pensi del di questo tire molla sul rinnovo di Daniel Ricciardo perché è chiaro che quello che è successo in Cina ha acceso i riflettori anzi ha la stagione del mercato piloti no? eh lo so come qui c'è un problema qui purtroppo ne abbiamo anche parlato altre volte ehm Verstappen è un ragazzo di grandissimo talento coraggio talento determinazione però se queste non si concretizzano in un risultato allora diventano negative cioè secondo me l'atteggiamento di Vettel che perdona Verstappen è in qualche modo l'atteggiamento più furbo di tutti cioè lo mette su un gradino inferiore gli fa accettare il concetto di colpa e in qualche modo lo condiziona se Emito gli dice guida col culo quello si caccia ancora di più e può motivarsi ancora di più ma quando Vettel gli dice beh non ti preoccupare sono le corse lui così a quel punto non può dire altro che scusa sì ho sbagliato beh è uno che la prossima volta ci pensa ci pensa po' è la psicologia inversa piuttosto che incazzata bisogna stare attenti perché ogni pilota ha il suo zainetto dietro la spalla con il talento con il coraggio con la base ma se questo talento coraggio non si traduce rapidamente il risultato diventa un po' i primi tempi di Crocian ecco voglio dire magari meno evidenze però c'è il rigetto bisogna stare molto attenti se c'è il rigetto e allora è un grosso guaio anche perché a questo punto al pilota arriva la paura di sbagliare perché quando Marco dice delle cose quando gli altri dicono delle cose quando suo padre dice delle cose e a quel punto lì la spavalderia che gli è stata così utile l'anno scorso gli si ribalta contro chiarissimo Mauro ti leggo la risposta ai Roby al nostro commento sul paddock chiuso almeno per quanto riguarda la Ferrari dice Roby 27 ero riuscito confermo ero riuscito a entrare alla Ferrari ma mi hanno subito rimbalzato mentre passando davanti a un'oreca del team americano di Blaine Robert vedendo i miei bimbi ci hanno addirittura chiamato dentro il box e li hanno pure messi all'interno della vettura quindi eh beh questa è la verifica provata di quello la prova provata di quello ma si vede che la Ferrari deve stare in un altro mondo e quindi è giusto che sia così Mauro questo weekend si corre a Baku eh Baku vediamo sai Baku è una di quelle piste di quelle piste particolari non ti saprei proprio dire niente di Baku voglio dire sono quei circuiti vorrei dire abbastanza da Formula E per la verità ecco se non fosse per i chilini troppo lunghi ma comunque ma ti aspetti una gara caos come l'anno scorso Mauro dimmi ti aspetti una gara caos come l'anno scorso beh ci sono tutti gli elementi nel passaggio lì nella città vecchia gli elementi ci sono non lo so non sono circuiti da Formula 1 soprattutto da Formula 1 moderna cioè la Formula 1 moderna è una Formula 1 che tende alla velocità costante ha bisogno di tracciate di un certo tipo nel momento in cui la fai rallentare sotto certi livelli diventa quasi più lenta di una safety car voglio dire quindi non lo so non mi piace è come è come far correre un antilope sul ghiaccio voglio dire non la capisco non lo so comunque è spettacolare è bello non siamo ai livelli Mauro non siamo ai livelli dell'elefante in cristalleria no 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 perché i cristalli non si rompono però comunque c'è il disagio voglio dire c'è un disagio queste macchine qua c'è solo Monte Carlo può reggere il concetto della eccezionalità voglio dire basta una dici tu ma ne basta una se no poi non è più eccezionalità non si capisce più cosa sia voglio dire no va bene poi ci sono alcuni come per esempio Daniel che dice Baku in realtà è più bella di Suzuka in effetti chiaramente il paragone è probabilmente provocatorio però è anche vero che forse gli ultimi anni ha dato più spettacolo effettivamente la gara di Baku che non quella di Suzuka perché no no ho capito ma io dico sempre c'era un lo dico mille volte ma c'era un umorista inglese Brooke Banks che ha fatto un libro e c'era un mille modi per fare spettacolo come abbiamo detto prima noi i dadi era un modo ma anche gli incroci a raso o le vecchiette che attraversavano la strada voglio dire non ci dobbiamo neanche far fuorviare da questo concetto di spettacolo la formula 1 è certo deve anche essere spettacolo ma deve essere prestazione deve essere eccezionalità deve essere qualcosa di irraggiungibile poi ben venga lo spettacolo ma ci sono se no mille altri modi di fare spettacolo senza bisogno di spendere 3 o 400 milioni di dollari all'anno ecco ok chiarissimo Mauro sono le 10 e mezza quindi possiamo iniziare a chiudere l'unica cosa che volevo dire io prima dei tuoi saluti finali è che avrete sicuramente notato che ci siamo spostati siamo su un altro canale piuttosto che sul nostro solito quindi l'invito insomma è di iscrivervi anche a questo che è il nostro canale di backup l'altro lo terremo un po' così diciamo in ghiaccio per un qualche mese prima di poter tornare a utilizzarlo per le nostre dirette va beh allora io grazie e salvo naturalmente io ringrazio tutti mi scuso per il mio ritardo ma io ho detto purtroppo il mio rapporto con la tecnologia è molto modesto domani faremo le prove salvo sarà così gentile da farmi fare delle prove forse la volta prossima riuscirò a essere pronto in tempo io vi ringrazio molto anche perché Mauro sappiamo che hai anche provveduto stoicamente ho le cuffie nuove ho le cuffie nuove ma siccome stasera ho dovuto utilizzare il telefono di mia moglie che è diverso dal mio non ho potuto neanche usare le cuffie quindi pensate per un genovese fare un investimento di questo rilievo e poi neanche poterlo usare voglio dire no quindi potete immaginare il mio ramarico metteremo tutto a posto metteremo tutto a posto Mauro non ti preoccupare l'altro mio ramarico va purtroppo ad Alberto che ci ha lasciato ma io ci tengo tantissimo a salutare Paola mi piacerebbe averla in trasmissione soprattutto quando Alberto non c'è in modo che lui possa stare tranquillo e noi invece ci divertiamo con Paola e gli facciamo parlare di Formula 1 va bene la prossima volta magari chissà magari potrebbe essere con noi allora saluti a Paola e saluti a tutti voi ciao salvo e arrivederci alla prossima che sarà la 98 quindi ci accettiamo alla mitica centesima arrivederci a tutti arrivederci buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti